Guarda, guarda un attimo Noi siamo i primi eravamo Sì, sempre quando Perché non è in cesso? No, perché non è in cesso No, questa è in cesso No, non è in cesso guarda, guarda, questa è adesso guarda qua, questa è di marzo adesso? no, adesso viene aspetta, ecco, a qua